Eventi, narrazione, storia. Il nuovo corso di storia Garzanti Scuola per la scuola secondaria di primo grado combina una narrazione scorrevole ed efficace alle esigenze didattiche di oggi, lo sviluppo delle competenze, l'assistenza allo studio, l'attenzione costante alla contemporaneità, la didattica inclusiva. Eventi, narrazione, storia è un corso agile, ricco di documenti, schede e osili grafici, rigoroso sotto il profilo scientifico, rispettoso del lessico specifico della disciplina, senza rinunciare al gusto della narrazione. Il corso è strutturato in moduli, suddivisi in unità. Le aperture di modulo raccontano in breve i fatti principali e visualizzano la contemporaneità degli eventi e gli snodi fondamentali della storia. Le aperture di unità presentano a colpo d'occhio i saperi di base, su cui vertono le attività in itinere, letture di fonti, di carte, di immagini. Nei volumi sono disponibili numerosi supporti allo studio. Per ogni unità, video lezioni, lezioni in PowerPoint, mappe concettuali, verifiche semplificate. Per ogni modulo, sintesi illustrate, con parole facili e verifiche semplificate. E inoltre, tre fascicoli, strumenti per una didattica inclusiva, in caratteri ad alta leggibilità da usare in maniera integrata con i volumi, con strumenti per tutte le unità del corso. Linea del tempo, scenario degli eventi semplificato. Sintesi per domande e risposte. Per prepararsi all'interrogazione e i fascicoli, si possono ascoltare con DeaLink. Tutti i contenuti inclusivi del corso sono stati realizzati dal Cedisma. Il corso propone attività diversificate per lo sviluppo graduale delle competenze. Esercitazioni lungo il testo, attività sui saperi di base, verifiche di fine unità, verifiche di fine modulo, compiti di realtà guidati, laboratori CLIL. Numerosi approfondimenti del corso sono pensati per aiutare gli studenti a orientarsi nella società globale e tra i fenomeni recenti del mondo. Storie del mondo, per conoscere i grandi paesi extraeuropei, protagonisti della storia del nostro presente. Passato presente, per riflettere sui grandi temi della storia e per orientarsi nella complessità di oggi. Sul portale E20, realizzato in collaborazione con la stampa, articoli, dati e video per approfondire e lavorare in classe. Dalla cronaca alla storia, per integrare il racconto storico degli eventi più significativi del Novecento con quello dei quotidiani dell'epoca, in collaborazione con l'archivio storico La Stampa. Cittadinanza e Costituzione, per ripercorrere il cammino dei diritti fondamentali e la storia delle più importanti istituzioni italiane ed europee. Atlante di Cittadinanza Digitale, un volume che affianca le pagine di Cittadinanza e Costituzione del corso per conoscere le regole del mondo digitale, per imparare a non essere danneggiati e a non recare danno agli altri, per partecipare attivamente alla vita online e offline. In più per l'insegnante, il libro doc, con le soluzioni in pagina. La guida docente, con strategie didattiche, verifiche, griglie di valutazione e proposte di lezioni modalità Flipped Classroom. E la guida insegnante Risorse Bess, con strategie per una didattica inclusiva, verifiche semplificate e soluzioni. La versione digitale del corso agevole il ripasso con le sintesi video e audio, delle varie unità, e lo studio con approfondimenti, mappe concettuali, lezioni in PowerPoint, linee del tempo, carte ed esercizi interattivi. L'app DeaLink consente di accedere ai contenuti digitali da smartphone o tablet semplicemente inquadrando le pagine del volume.